Cresce l'attesa per il convegno internazionale sul tema diritto penale degli alimenti, prevenzione, precauzione e repressione in Italia ed in Europa che si terrà sabato 26 settembre ad Expo 2015 alla Padiglione Italia nella sala del Ministero delle Politiche Agricole. Sul tema e sull'importanza del convegno il nostro direttore ha sentito l'avvocato Nunzio Raimondi, docente di diritto penale nella scuola di specializzazione per professioni legali dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e preside dell'Istituto Superiore di Scienze Penalistiche. Avvocato Raimondi, un tema di grande attualità nell'ambito dell'Expo, un tema di grande attualità anche per quanto riguarda la sensibilità dei cittadini. L'Istituto Superiore di Scienze Penalistiche che presiedo ha animato questo convegno, lo ha voluto, scegliendo gli interlocutori più qualificati a livello nazionale, a cominciare dal Ministero delle Politiche Agricole e ovviamente per passare all'Istituto Internazionale di Scienze Criminali con il quale abbiamo oramai una partnership molto ben radicata. Il tema per il diritto penale è particolarmente importante perché è un tema che riguarda la materia del rischio. La disciplina collegata al diritto penale degli alimenti sembra fondata principalmente sul principio di prevenzione, diversamente la disciplina non penalistica relativa alle leggi speciali e soprattutto quella di provenienza comunitaria sembra avere dei limiti soglia molto elevati e sembra essere più strettamente collegata al principio di precauzione. Abbiamo scelto per parlare di questi argomenti i più illustri penalisti che si sono occupati della materia, presiede il convegno il Professor Sgubbi, abbiamo fra gli interventori il Professor Cupelli che fa parte della Commissione per la riforma dei reati agroalimentari, presieduta dal Dottor Caselli, abbiamo il Professor Gatta che è anche il Vice Direttore della rivista Diritto Penale Contemporaneo ed è un professore come tutti sanno all'Università Statale di Milano. Abbiamo la relazione di base, la relazione più forte del convegno che sarà per l'appunto tenuta dal Professor Foffani, il quale si occuperà di tracciare un quadro generale della materia in Italia e in Europa, gli interventi dell'Abbocato Corte, uno dei più noti avvocati specialisti nella materia in Italia e la relazione poi dell'Istituto che sarà rappresentato da me. Quindi sostanzialmente un incontro di studi per fare il punto sulla materia e offrire nell'ambito dell'esposizione universale, cioè nell'ambito della SEDES in cui si dibatte ai più alti livelli delle problematiche italiane, europee, internazionali sul diritto penale degli alimenti, il contributo dell'Italia e, se mi si consente, anche il contributo del nostro istituto della Calabria per il quale ringraziamo anche la Regione Calabria per il patrocinio che ci ha voluto offrire, anche se non siamo fra le iniziative strettamente collegate alla settimana calabrese. Ma pensiamo ugualmente di ottenere per la Calabria una immagine internazionale adeguata alle qualità e all'eccellenza delle risorse che vi operano. Soprattutto si potrà dimostrare che la Calabria è in grado, attraverso le sue intelligenze, di dare un contributo originale anche nell'ambito di una manifestazione di grande rilevanza internazionale come l'Expo. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.